BHB Network BHB Network è l'associazione che tende a sviluppare e ad aiutare lo sviluppo dei protocolli open source che ruotano attorno al protocollo Bitcoin, la tecnologia Bitcoin quindi librerie per wallet piuttosto che sistemi di storage sicuro per i Bitcoin piuttosto che implementazione di asset differenti su Bitcoin piuttosto che creazione di layer di trasmissioni Bitcoin o hardware che permettano degli smart contract insomma una serie di tecnologie interessanti per questo ecosistema la struttura nota come BHB Network tende a aiutare e a sostenere e a rifornire di risorse logistiche e finanziarie coloro che devono e vogliono portare avanti questa ricerca e questo sviluppo mentre sul lato consulenziale Blockchain Lab è una rete di diverse aziende in diversi paesi che cercano di spiegare queste tecnologie agli incambi finanziari in modo da permettere loro di investire verso una direzione coerente e realistica invece di perdere tempo in progetti che non hanno nessun senso e che sono guidati principalmente da un hype, da un'attenzione mediatica estemporanea Grazie a tutti!